Il sequestro di Bologna ha sequestrato un patrimonio immobiliare e finanziario del valore di oltre 100.000 euro a carico di Sebastiano Di Bella, 49enne di origini catanesi e residente da tempo nel Piacentino, ritenuto però socialmente pericoloso per aver commesso nel tempo in maniera sistematica delitti contro il patrimonio, anche gravi e per la vicinanza a cosche mafiose. Il provvedimento riguarda anche tre unità immobiliari a Catania. Il sequestro rappresenta il tassello finale di un'attività investigativa svolta alle fiamme gialle, all'esito della quale è stata riscontrata l'omessa comunicazione da parte di Di Bella delle numerose variazioni del patrimonio immobiliare. In particolare sono state ricostruite movimentazioni sconosciute per oltre 100.000 euro.